Anche quella della manifestazione riparatoria di solidarietà alla famiglia di Federico Aldrovandi è stata una giornata all'insegna delle polemiche fra gli invitati per così dire. Ci sono anche quegli agenti di polizia che due giorni fa hanno partecipato al presidio sotto la finestra dell'ufficio di Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi. Ieri sera l'avvocato della signora ha querelato per diffamazione il segretario del COISP Franco Maccari e l'ex senatore Alberto Balboni entrambi coinvolti in quel presidio per illegale e intollerabile l'accusa rivolta alla madre, cioè di aver mostrato in quell'occasione una foto del figlio ritoccata al computer. Intanto anche oggi hanno continuato a fioccare le presi di distanze e i comunicati di indignazione rispetto a quale sit-in l'Associazione Nazionale Funzionale di Polizia e il SIAP definiscono l'iniziativa come tossica per tutto il movimento sindacale di polizia con il rischio di incanalare la rabbia del disagio sociale nei confronti dei poliziotti. L'UGL Polizia nel dissociarsi dalla manifestazione ha individuato responsabilità di un simile gesto anche in chi ha autorizzato il sit-in senza comprenderne le conseguenze dal COISP. Però arrivano nuove accuse. Dopo la richiesta di dimissione del ministro dell'interno Cancellieri oggi il segretario Maccari si è scagliato nuovamente contro i media, colpevoli a suo giudizio di aver strumentalizzato la vicenda.